I contadini di un villaggio indiano dicono di essere stati stregati dagli spiriti. Questo avvenne perché avrebbero estratto dei cadaveri da un rottame di un aereo caduto nei pressi della città di Novadeli. L'incidente era avvenuto nel 1996 e provocando una tragedia. Portò alla morte di 349 passeggeri. Secondo i quotidiani londinesi, i contadini sostengono che non possono arare più i campi di vicino. Da due anni, zona ha provocato un raccolto di color sangue. La gente del villaggio evita di andare in quel luogo, visto che c'è chi racconta che nella notte avrebbe visto anche delle ombre. vagare lì per i campi. Allora molti contadini si recano lì per pregare le vittime di quel disastro. Ma sembra che le apparizioni di quelle ombre continuano a tutt'oggi.